carissimi ben ritrovati in nostra compagnia in compagnia di valore srl del gruppo ad io mi trovo a torino l'avete sicuramente riconosciuto questo ampio piazzale dedicato all'usato ma non solo proprio in corso orbassano 472 e naturalmente rivedo domenico biscione che saluto con grande piacere ciao ciao sonia saluta tutti i tre spettatori ricordiamo i nostri amici l'ubicazione di questa sede visibilissima peraltro è grandissima però spieghiamo meglio come raggiungerla sì siamo praticamente a due passi da beinasco quindi facile da trovarci l'uscita a torino corso bassano e soprattutto per invece chi viene per chi viene da beinasco ci trova subito dopo l'uscita prima della tangenziale quindi facile sia da un lato che dall'altro adiacente alla motorizzazione lo ricordiamo così è più facile da da raggiungere qui come dicevamo un ampio piazzale dedicato all'usato multi marche ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche ma non solo anche nuovo e anche veicoli commerciali nuovi ed usati con delle ottime opportunità d'acquisto io so che c'è una promozione fantastica perché ci sono sconti sui veicoli commerciali nuovi lo ribadisco quindi questo riservato soprattutto a chi lavora chi ha bisogno di un mezzo per lavorare meno 35 per cento quindi 35 di sconto per cento di sconto sui veicoli commerciali potendo usufruire di un super incentivo statale con ammortamento del 140 per cento detto troppo hai detto tutto te quindi veniteci a trovare per chi cerca anche un mezzo da lavoro sicuramente troverete il mezzo che fa per voi non solo mezzi da lavoro non solo veicoli commerciali ma tantissime occasioni selezionate certificate per voi vediamo partiamo con la con la nostra carrellata di auto ricondizionate come dicevamo prima partiamo con questa opel meriva 1.4 benzina la proponiamo a 5.500 euro la macchina è del 2008 e ha percorso 94.000 chilometri passiamo in casa fiat con questa splendida idea gpl 1.4 del 2012 la proponiamo con solo 76.000 chilometri a 8.500 euro passiamo in casa kia con questa splendida seed station wagon l'auto ha percorso 143.000 chilometri un 1.6 a gasolio la proponiamo a 7.500 euro un'auto immatricolata nel 2012 introvabile sul mercato dell'usato questa splendida toyota yaris verso 1.3 benzina del 2003 la proponiamo a 3.500 euro skoda roomster l'auto è stata immatricolata nell'ottobre 2011 1.2 benzina e con soltanto pensate 46.000 chilometri la proponiamo a 9.950 torniamo in casa fiat abbiamo diverse croma quindi ve le mostro un attimino tutte sia benzina che diesel e soprattutto partiamo da prezzi veramente competitivi come questa una 1.9 diesel a gasolio del 2007 la proponiamo a 4.950 euro opel astra 1.7 diesel nella versione cosmo l'auto ha percorso solamente 46.200 chilometri e un 1.7 gasolio la proponiamo a 7.950 euro per quanto riguarda invece il discorso delle city car abbiamo diverse toyota yaris ne abbiamo veramente tante sia benzina che diesel ci soffermiamo su questa in particolare 1.4 gasolio l'auto ha percorso 132.000 chilometri del maggio 2007 la proponiamo a 4.950 passiamo in casa peugeot con questa splendida peugeot 207 del 2011 l'auto è un 1.6 diesel ha percorso 80.000 chilometri veramente in condizioni strepitose la nostra richiesta è di 10.950 venite a vederla perché è veramente unica nel suo genere city car per eccellenza fiat panda ne abbiamo veramente tante diversi colori e diversi soprattutto le motorizzazioni quindi da le semplici 1.2 benzina al benzina gpl e addirittura anche benzina metano prezzi a partire da 4.950 riusciamo a soddisfare ogni esigenza per quanto riguarda questo tipo di autovettura stesso discorso per quanto riguarda le fiat grande punto ne abbiamo diverse diversi colori diverse motorizzazioni diversi allestimenti prezzi a partire da 3.500 euro auto ripeto ricondizionate e garantite ampia scelta per quanto riguarda le nostre i nostri fuoristrada quindi con diverse marche bmw hyundai sayong abbiamo veramente un'ampia scelta atto come dicevo prima ricondizionate tenute in ottime condizioni prezzi a partire da 5.000 6.000 euro quindi per tutte le tasche venite pure a trovarci e sicuramente troveremo l'auto che fa per voi for fiesta 1.4 benzina gpl l'impianto montato direttamente dalla casa madre la proponiamo a 7.500 euro l'auto ha percorso 94.000 chilometri è stata immatricolata nel 2010 venite a vederla perché veramente in ottime condizioni venite a vedere quindi a conoscere questo ampio piazzale se non l'avete già fatto perché sono sicura che se l'auto che state cercando non c'è domenico biscione il suo team è in grado di trovarvela sì ricordiamo che facciamo parte del gruppo ad motors quindi una serie di concessionari uniti non doveste trovare la macchina che state cercando da noi ci sediamo a tavolino e la troviamo insieme negli altri concessionari certo un grande gruppo capillare ormai sul territorio pronto ad esaudire i vostri desideri corso urbassano 472 io vi ringrazio ringrazio te per l'ospitalità grazie per l'ascolto alla prossima